Secondo le statistiche di YouTube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! Ma che cosa? Ok. Ma che cosa? Non mi fai ancora? Oh... Farò molto, ma che cosa? ... Ciò che è il fatto che ho il fatto stato? È vero! Ciò che il fatto è vero! Ciò che il fatto è vero! Ciò che il fatto è vero! C'è il fatto delle scoperte? Perciò che il fatto? Cosa che statistics? Cosa was that real? is this real life? is this real life? is this real life? this is real life I don't know man this is real life that was real life I am going to punch down I can help you I got hit- 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 Nice! I was so excited I´m doing it ah si 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 no holy shit bro Ancest me dis That I'm playing Overwatch 2 With Trenamento Akos are absolute dog shit Listen Listen to me I don't care if they have Mr. Unlimited or not Bet against this team Bet against that team I have made so much money Betting against that fucking team Bet against them They're so bad No they're fucking horrible man They're staying right there Alright Dolphins We haven't played a long time dude Should look like a sponsorship for water Dude I would love Nevermind Suck me off I'll take it Turn it now They're already fucking people 1kでも伸ばせ Nice No No 1kでも伸ばしてくれたら That's a lot huge Nice Nice Ehi sono sempre oltre al cibo Ma 3 battes Non è così Non è così Non è così Ma dove vai Non è il più Non è che Non è che Non è che 3 battes 1 v3 Un tiro Un tiro Un tiro Non è che Ma v3 Ma v3 O'è un tiro O'è un tiro Oh ilettore il crema ilosito. Tu una volta fai tutti. Di meglio tui. Kavera cavera. 3人 ritori colore. Ah, ho detto. Tu l'altro del ritori che va in altri ultimi due passanti. Ah, non ci rimpegaccio? Non ci rimpea. Sì si a i a a a a a a a a no Ah, questo cliente è stata bannata C'è un'esplice? Prima C'è un'esplice? Beh, sì o? aぶらすぎる! NANDE KONNA TAM-E but there are no What you are doing now by war collerez Yeah, are you figuring out which are the boss Back-to- floating Linksins are tied Sì, 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 Sì Noi! Noi! Ah! Ah? Grazie a tutti.